Quello che ha impianti... Sì, impianti sci. Ora metteremo due torneri, che non si può raccontare qua per l'entrata. Ah! Qua non c'è la scuola, 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 ma ora fai un problema, non c'è la scuola non c'è la scuola in corso libertà! Grazie mille! Buonxychcription! la tradizione, non c'è la scuola, weit làFFVE non c'è la scuola delle caratterno questo, Sì, sì, sì.